Amici e amici bianconeri, bentrovati qui sul canale. È appena terminata Juventus-Milan, valevole per la 37esima giornata di Serie A, l'ultima in casa della Juventus. Per questa stagione uno strazio lo dobbiamo ammettere. Sconfitta per i bianconeri l'ennesima, la decima in stagione di questa nefasta stagione di campionato. Milan che conquista matematicamente un posto nella prossima Champions League, Juventus che invece avrà davanti a sé davvero tanto tanto buio. Prima di sviluppare il tutto, come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ne avete voglia. Se vi fa piacere e vorrete seguire i contenuti che pubblicherò su questo canale, azionate la campagna di notifica e mettete un bel like al contenuto in fondo alla puntata. Per la Juventus è notte fonda, non c'è che dire. È stata una stagione altamente negativa sotto tutti i punti di vista. Come amava dire, come ama dire il buon Antonio Conte che era in tribuna allo stadio, non perché ci siano sentori che Antonio Conte possa sedere sulla panchina della Juve in sostituzione di Massimiliano Allegri, che anche questa sera pur offrendo un atteggiamento tattico differente ha cambiato per la centesima volta in due anni la formazione, ma non ha saputo dare una connotazione ben precisa alla sua squadra. Una squadra che nel corso del primo tempo non aveva disputato nemmeno la più brutta delle partite, anzi tutt'altro. Era partita bene la Juventus, salvo poi cedere il passo al ritorno dei rossoneri che stavano facendo la partita, poi era riuscita a riprendere in mano il pallino del gioco con alcuni spunti interessanti di Quadrado, di Kostic per Moïse Kinn, con Chiesa, insomma un qualcosa con lo stesso Kinn per anche il Di Maria, un qualcosa si era visto, quantomeno a livello di buona volontà, fatto salvo la consueta e solita difficoltà, poca incisività e disordine di una squadra che purtroppo, spiace dirlo, obiettivamente non ha né capo né coda. E così la Juventus viene infilata da un colpo di testa meraviglioso di Olivier Giroud su assist di Calabria, gol che basta per portare a casa la qualificazione matematica alla prossima Champions League per i rossoneri e a far sprofondare nel oblio più profondo i bianconeri per i quali davvero non c'è nulla, ma proprio nulla da salvare in questa serata, che ripeto non è per la prestazione la peggiore dei bianconeri di questi ultimi tempi, ma è l'ennesima debacle di una squadra che purtroppo anche a livello di forza mentale non ha davvero più nulla da dire e poi in molti giocatori non aveva davvero più nulla da dire. È stata l'ultima di una stagione nefasta allo stadium in casa, è stata l'ultima per Angel Di Maria, anche questa sera altamente negativo, almeno a mio modo di vedere un Angel Di Maria che non ha saputo incidere, profondamente deludente nel suo percorso in bianconero. Ha dato ragione a tutti quanti quelli che pensavano fosse venuto a Torino a svernare. Ora, io non credo fosse venuto a Torino a svernare, ma certamente debbo riconoscere che il suo apporto in bianconero è stato altamente, altamente negativo. Deludente e per fortuna unica nota positiva di tutto questo, la Juventus ha interrotto i dialoghi per un rinnovo di contratto che non mi risulta siano stati interrotti per le alte richieste del Fideo, quanto per essersi resa conto che al netto della non partecipazione alle prossime competizioni europee, l'apporto del Fideo è stato altamente deludente e negativo. Ultima anche per Adriane Rabiot. Un Adriane Rabiot questa sera che nulla ha potuto, non è riuscito ad incidere, non è riuscito a dare, nonostante il suo motore sia sempre uno di quelli più dirompenti e prorompenti, ma un Adriane Rabiot che ha chiuso purtroppo il suo quadriennio in bianconero con una sconfitta in casa contro il Milan. Adriane Rabiot che io sono convinto, la Juventus e anche diversi tifosi potranno rimpiangere perché in un centrocampo fatto di tanta pochezza lui era certamente l'unica nota positiva. L'ultima anche per Leandro Paredes buttato dentro nella mischia per l'ennesima volta da Massimiliano Allegri. Forse alla ricerca di un'invenzione, una squadra che ha un fraseggio lento, compassato, che non riesce a sorprendere gli avversari proprio perché il palleggio risulta essere molto blando, molto lento, poco verticale e quindi poco incisivo. Cosa dire di Ken, cosa dire di Chiesa, cosa dire di tutto il resto del gruppo? Una Juve che ce l'ha messa la volontà, ci ha provato, ma si vede una Juve sfiduciata, una Juve che non ha più la voglia e la forza di combattere, probabilmente perché è stressata da tutto quello che è stato l'extracampo e probabilmente perché è consapevole di poter non partecipare a prescindere dai risultati di campo a nessuna competizione europea in vista della prossima stagione. E a tal proposito vediamo se domani sarà il caso di affrontare l'argomento dichiarazioni di Francesco Calvo, perché le dichiarazioni di Francesco Calvo pre-match lasciano adito a pochi dubbi, lasciano spazio a poche interpretazioni, vanno nella direzione di una Juventus che fondamentalmente ha accettato questa condanna di 10 punti. Questa condanna di 10 punti che viene accettata dalla Juventus, che però fa male, fa male perché lascia davvero tanta impotenza nei propri tifosi. Ecco, su quei tifosi mi soffermo un attimino perché si era detto che al ventesimo del primo tempo i gruppi organizzati della curva sarebbero entrati ed avrebbero fatto sentire la loro voce. Ora io ovviamente commento da casa, ho visto la partita incollato al televisore, come sempre faccio per tutte le partite della Juventus fatto salvo che non ci siano degli impegni, diciamo delle cause di forza maggiore o degli impegni che hanno un valore superiore nonostante tutto ad un evento di sport. Devo dire che forse sono l'unica nota positiva di questa serata perché a tratti i decibel dello stadium sono riecheggiati dagli altoparlanti del televisore, indice del fatto che ci sarebbe un potenziale, un potenziale che anche questa sera ospite a Radio Bianconera, alla domenica di sport, ho avuto modo di evidenziare perché credo che sia uno di quegli argomenti che la nuova proprietà, o meglio che la nuova dirigenza debba affrontare e debba far sì che possa, diciamo, tornare ad una normalità, quella del cosiddetto dodicesimo uomo. Perché ogni squadra che ha un blasone, ogni squadra che ha, diciamo, la capacità di gettare il cuore oltre all'ostacolo, molto spesso lo fa grazie all'apporto dei propri tifosi. Credo che in questi ultimi tempi, in questi ultimi 2-3 anni alla Juventus siano mancati tantissimo i propri tifosi, siano mancato tantissimo il tifo dei propri tifosi, il supporto che uno stadium urlante può dare nei momenti di difficoltà. Ecco, allora in una Juventus che si appresta a vivere l'ennesima, ma questa probabilmente più lunga delle altre notte fonda davanti a sé, il tifo dello stadium potrebbe essere davvero l'unica nota positiva per poter riguardare quanto prima a un immediato futuro con un pizzico di luce che possa farci sperare che quantomeno ci sia qualche d'uno che cercherà di dare una mano a quel gruppo di ragazzi che oggi ancora una volta si sembrano tremendamente sfiduciati, tremendamente persi con la testa altrove, piuttosto che concentrati a cercare una vittoria che avrebbe consentito alla Juventus ancora di sperare in un appiazzamento nella prossima Europa League. C'era la possibilità di scavolcare Atalanta e Roma, come vi avevo detto nel contenuto di quest'oggi, cosa che non è avvenuta, ma questa Juventus non ne ha obiettivamente davvero più e allora adesso come non mai davvero si fa fatica ad intravedere una luce in fondo al tunnel, anche perché le parole di Calvo, di cui sicuramente tornerò a commentare lasciano davvero tanto tanto amare in bocca. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine Forza Juve!